Ma buongiorno divaniste, buongiorno, benvenute, bentornate qua sul mio divano Eccomi qua, mi aggiusto sempre il cuscino dietro la schiena in modo da stare dritta, pronta e composta davanti a voi Oggi, oggi sono molto felice perché il mio canale pur essendo stato aperto da pochissimo ha già tanti iscritti, almeno per me sono tanti, per qualcun altro possono essere pochissimi per me sono tanti e quindi sono felice e quindi voglio premiare i miei iscritti Give away, primo giveaway, primo contest come dice mio figlio Give away, regalo, signori e signori vengono Voglio fare un regalo alle mie iscritte e a coloro che vorranno iscriversi Allora, 150 iscritti per me appunto sono già tantissimi ma voglio fare questo giveaway in modo da poter promuovere un po' il mio canale farlo conoscere il più possibile e pubblicizzarlo un po' e quindi ho deciso di preparare delle piccole cosettine il primo giveaway, poi quando saremo 10.000, 20.000 allora ci saranno altri premi adesso contentiamoci di questo pensiero, di questi pensierini che ho messo qua per voi e adesso vi faccio vedere che vi regalerò per ringraziarvi ci sarà solo un vincitore, un fortunato, una fortunata che si aggiudicherà il pacchetto e diciamo subito le regole di questo giveaway che me le sono anche segnate allora, innanzitutto quando scade lo farò durare circa una quarantina di giorni quindi avete 40 giorni per iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritte la scadenza l'ho fissata per il 15 giugno 15 giugno regola numero 1 per partecipare al giveaway è essere iscritti quindi se non sei ancora iscritta clicca lì sopra, iscriviti le iscrizioni devono essere visibili quindi devono essere pubbliche perché nel momento in cui io andrò a selezionare il vincitore andrò a vedere se risulta la sua iscrizione al mio canale quindi essere iscritti mettere mi piace a questo video quindi pollice in su a questo video essere maggiorenni oppure avere il consenso del genitore perché comunque avrò poi bisogno di sapere i vostri dati insomma il vostro indirizzo per potervi inviare il pacchetto vivere in Italia così che per la spedizione è più semplice e lasciare un commento sotto questo video che sia un commento di senso compiuto cioè non una roba strampalata cioè oltre a voglio partecipare mi piace partecipare partecipo eccetera qualcosa tipo quello che volete voi non lo so mi piacciono i tuoi video non mi piacciono facci più video così preferisco fare così perché non affronti questo tipo di video o che ne so io o mi raccontate qualcosa di voi o che ne so comunque qualcosa in più che non è semplice partecipo e che abbia un senso quindi le regole sono queste e sono semplicissime allora vado a farvi vedere cosa ho preparato in questo vassoietto eccolo qua ah il vassoietto è mio quello non ve lo regalo vi regalo il contenuto allora cominciamo subito dalle cose che forse sono un po' più ambite e cioè due maschere di tessuto di Tony Moly che sono queste qua la prima è questa I'm Real è una maschera purificante una maschera purificante in tessuto ed è questa e l'altra sempre di Tony Moly è un'altra maschera purificante alle alghe sempre maschera in tessuto questa è al latte e questa è alle alghe quindi ci sono queste due poi sempre per maschere viso vi ho messo due maschere membrana in collagene quelle per idratare le labbra vedete che sono a forma di labbra si mettono su si tengono un quarto d'ora venti minuti appiccicate sulla bocca e servono per idratare a fondo le labbra e ci sono queste due poi passiamo a questa matita è una matita occhi della Polar Eyes che appartiene alla serie Beautiful Beautiful Box è una matita nera appuntita nerissima ecco poi ho questo Crystal Lip Gloss della Bionike che è un lip gloss trasparente che quindi secondo me può andare bene può andare bene a tutte eccolo qua ha il pennellino in spugna gialla molto cicciottone devo dire e è della Bionike quindi un gloss trasparente secondo me fa sempre comodo questo poi ho messo delle salviette queste che avevo preso della Sien sono 25 salviette all'aloe vera queste poi vi aggiungo questo bagno schiuma un mini size da 60ml al latte di mandorle questo ha un profumo stravitoso veramente non lo voglio aprire perché non voglio più fare casino che magari esce il bagno schiuma per carità poi due smalti uno un po' più classico della Deborah Milano Seven Days Long uno smalto rosso quindi un classicone che va sempre bene smalto tenuta perfetta rosso e un altro invece uno smalto un po' più simpatico ed è della Debbie Color Play Ultra Ultra Shiny ed è quello che se andate in discoteca vi si vede anche con le luci della discoteca io l'ho ricevuto nella My Beauty Box nel color bianco e a voi invece lo do color verde è un bel verde prato poi visto che sono rappresentatrice rappresentante presentatrice consumatrice di Avon non potevo non aggiungere anche un prodottino dell'Avon e questo è uno spray profumato per il corpo della nuova profumazione Viva la Vita che è uscito a marzo quindi nuovissima profumazione questo è uno spray da 75 millilitri quindi praticissimo anche da tenere in borsa poi cosa vi do sempre dell'acquolina un po' di milk pelle vellutata sempre latte di mandorla quindi c'è la combo tra il bagno schiuma e il latte per il corpo sempre il latte di mandorla tutte e due poi per il viso invece c'è questa crema della Bioderma che è una crema nutriente un 15 millilitri per le pelli secche eccolo qua per le pelli secche e sensibili non riesco a parlare oggi poi vi aggiungo anche dei campioncini che avevo uno l'avevo preso da Sephora mi sembra e questo è un body butter un burro per il corpo è anche una simpatica confezione poi due profumi fruttetto del sole della bottega verde quindi profumo estivo agrumato è un detergente delicato della biofficina toscana questo è un a un'azione emolliente per viso corpo igiene intima ha un ph di 5 questo quindi questi sono tutti i regali che insomma che metterò insieme in questo pacchettino e che regalerò appunto a chi vorrà partecipare a questo giveaway quindi le regole ve le ho dette la scadenza ve l'ho detta al 15 giugno io farò un'estrazione con un motore di di estrazione così automatico non assegnerò a tutti voi un numero ma man mano che vi scriverete io segnerò sulla mia agenda il vostro nome e il numero poi vi farò vedere quando farò l'estrazione e alla fine chi verrà estratto farà un video in cui faccio vedere come ho estratto e il nome di chi sarà estratto boh ho detto tutto sono felice sono contenta ve l'ho detto come una pasqua proprio e quindi vi saluto e aspetto le vostre numerose iscrizioni ciao ciao divaniste ciao